Uomini e donne spoiler, la vigna messa alle prima della scelta, Campoli va via. La vigna Mauro messa alle strette a uomini e donne prima della scelta finale. Gli spoiler dei prossimi appuntamenti con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di novità legate al percorso della giovane tronista che da diversi mesi ormai sta portando avanti il suo percorso in studio. I due pretendenti giunti al rush finale di questa avventura sono Alessio Campoli e Alessio Corvino che, pur essendo molto differenti l'uno dall'altro, hanno saputo far breccia nel cuore della giovane tronista. Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse durante il mese di marzo in tv rivelano che la vigna si ritroverà a fare i conti con una situazione decisamente problematica in studio. L'atronista sarà protagonista di una nuova esterna con Alessio Corvino e, questa volta, deciderà di mettere alla prova il giovane pretendente. Lavinia, infatti, approfitterà della situazione che si verrà a creare con il giovane pretendente casertano per stuzzicarlo e provocarlo. Speranzosa del fatto che il ragazzo sarebbe caduto nella sua trappola. Peccato, però, che al cospetto di questa situazione di grande incertezza in cui verrà l'atronista di Uomini e Donne. Alessio Corvino deciderà di fare un passo indietro. Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne rivelano che Alessio deciderà di non sbilanciarsi e si rifiuterà di concedere un bacio a Lavinia, facendo così un passo indietro. Un durissimo colpo per l'atronista che, amareggiata e delusa, non perderà occasione per attaccare il corteggiatore in studio, accusandolo di non aver seguito il suo cuore. Ma non è finita qui, perché tale situazione finirà per indispettire anche l'altro pretendente Alessio Campoli. La cui reazione sarà decisamente inaspettata. Gli spoiler di Uomini e Donne rivelano che, a quel punto, Campoli deciderà di lasciare lo studio e andare via dalla trasmissione nel bel mezzo delle riprese. Una decisione forte è quella di Campoli, il quale dimostrerà di essere geloso e al tempo stesso deluso dal comportamento della giovane tronista. Insomma, l'atronista si ritroverà messa alle strette dai due pretendenti ad un passo ormai dalla fatidica e attessissima scelta finale. Sia Campoli che Corvino dimostreranno di essere stufi di questa situazione di incertezza che, a distanza di sei mesi, pervade ancora l'animo e il cuore dell'atronista. Per lei è arrivato il momento di correre ai ripari e svelare al più presto la sua scelta finale. Lo scopriremo nel corso delle prossime e attesissime registrazioni di questa stagione.